Il Vescovo Metropolita di Lecce ha incontrato i giovani delle quinte classi dell'Istituto dei Giorgi di Lizzanello e ha chiacchierato con loro sulle tracce di Don Tonino Bello. Monsignor Michele Seccia ha indossato un grembiule bianco con i colori dell'arcobaleno, segno di pace, e ha parlato con gli studenti per una chiesa con il grembiule, così come Gesù si è messo al servizio dei discepoli e ha lavato loro i piedi. La convivialità che nelle differenze, la ricchezza della diversità di ognuno di noi, l'accoglienza, il rispetto per la persona umana, la gioia nello stare insieme, la condivisione, la protezione verso il prossimo, sono stati gli argomenti toccati da Monsignor Seccia che ha parlato con i ragazzi, che sono in una fase della loro crescita molto delicata, condividendo con loro i pensieri del Vescovo di Molfetta. L'Arcivescovo ha poi spiegato come la solitudine genera paura, la paura genera l'arroganza, l'arroganza aggressività e spesso sfocia in manifestazioni di bullismo, fenomeno sociale diventato una vera e propria piaga negli studenti, anche in teneretà al giorno d'oggi. La vita non è un videogioco, ha detto ancora l'Arcivescovo ai ragazzi, la vita è amare e essere al servizio degli altri, con rispetto e accoglienza, con amore e lealtà. L'incontro è stato voluto dalla dirigente dell'Istituto Maria Assunta Corsini, che insieme al sindaco di Lizzanello, Fulvio Pedone e agli altri docenti, hanno preso parte all'incontro con i ragazzi tenutosi presso il centro polifunzionale di Lizzanello.